Juve Women, la dedica di Ad Agnelli, il messaggio social. Con i gol di Bonansea e Caruso nello spazio di un minuto, 51 e 52, la Juventus Women batte in campionato l'Inter 2 a 0 nel darby d'Italia. Un successo che riporta le bianconere a ridosso della Roma capolista e che viene dedicato all'ex presidente Agnelli, non dimenticheremo mai da dove siamo partite. Per questo mi sento di dedicare questa vittoria al presidente Andrea Agnelli. Che ci ha permesso di nascere, crescere e vivere questa maglia profondamente. Ha detto Cecilia Salvai. Quando si sentono tante parole, l'unico modo è rispondere sul campo ha aggiunto la bianconera sui social personali e la nostra passione. La nostra rabbia, la nostra voglia di vincere ci porteranno lontano e ci permetteranno di scrivere altre pagine importanti della storia del club, la Juventus è uno stile di vita e noi continueremo a portare avanti i valori di chi. Come lui, Agnelli, NDR, ha scritto pagine di storia. Grazie. Fino alla fine. Virgola.